Com'è divertente andare in giro con l'APECAR Negli anni 90 una giovanissima Cristiana Capotondi ci diceva che andare in giro in APECAR era una figata E poi a 14 anni guido già un pick up Io ho un APECROSS Colore esagerato, stereo e interni da sballo APECROSS, la forza giovane Insomma pensate gli adolescenti di oggi in APECAR Comunque oggi parliamo non tanto di APECAR ma di motorini Anzi parlerete di motorini Perché io non ho una grande esperienza non avendone mai avuto uno Ma per i miei coetanei ero mai più senza Primo esempio pratico di libertà Come proclamava la pubblicità della Garelli Cambiamo base perché l'APECAR non c'entra più niente I ricordi dei motorini sono associati alle immancabili 5000 lire per la miscela E il fare arrogante di chi ormai può andare in capo al mondo Con occhiali Ray-Ban taroccati e giubbotto di jeans Anche se per partire dovevi magari pedalare come un forsennato Per far avviare il nostro destriere a due ruote La piaggio dominava la nostra rombante vita con quei mezzi dei nomi accattivanti E se ci pensate bene ora usiamo questi termini Quando dobbiamo dargli ben servito a qualcuno Sì bravo ciao Già dagli spot pubblicitari si respirava quel senso di libertà Ma anche di pacchiano Come la raffinata animazione del ciao Il motorino per i ragazzotti di allora diventava qualcosa di mistico Di magico in grado di trasformare come una sorta di Gesù su due ruote L'acqua in ben non propriamente vino Ma la cosa che più stupisce nel guardare queste pubblicità sapete cos'è? La totale assenza del casco A parte che ruote solari sembra l'attacco del Daitan 3 Con l'aiuto del sole vincerò Attacco solare Sì piaggio Per i nuovi adulti I nuovi adulti Un tempo insomma eravamo spericolati E l'obbligo del casco è una di quelle cose che con gli anni ha contribuito a salvare una marea di vite Il casco divenne obbligatorio nel 1986 Prima eravamo dei bad boy senza paura Così come non usavamo le cinture in macchina O si trasportavano così I bambini piccoli Cioè roba che se siamo sopravvissuti È perché forse Dio non facevamo così schifo Anche perché molti truccavano anche il motorino Per farlo andare più veloce Scoprendo doti meccaniche da far paura Ovviamente uno dei simboli della vita su due ruote Perpetuato da film e canzoni È la Vespa Tra tutti io ricordo e adoro Lo spot con la canzone dei Culture Club Con il figaccione che interviene per aiutare la squinzia che ha perso l'autobus Lui la prende, supera la corriera con fare arrogante Arriva alla fermata successiva E lei finalmente può prendere il bus Lui è deluso Ma ecco il colpo di scena Lei rimane a terra E parte con lui Che di fatto è uno sconosciuto di cui non sa niente Quindi ottimo Brava furba E voi eravate felici e orgogliosi possessori di motorini? Quali sono i vostri ricordi? Commentate come sempre Festosi e festanti Grazie a tutti Grazie a tutti